Grazie di essere qui, grazie di essere intervenuti a questa conferenza stampa. Era un impegno che mi ero presa io per prima per avere spazio e modo per confrontarci su alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore come Partito Democratico. Parto da alcune informazioni che volevo condividere con voi. Una riguarda il 25 aprile. Il 25 aprile, festa di liberazione, sarò alla manifestazione di Milano. È una celebrazione particolarmente importante e sentita. Chiaramente sapete che in questi giorni, prima del 25 aprile, succederanno alcune cose. Ci sarà una discussione di una mozione al Senato. Si terrà la nostra direzione nazionale domani, pomeriggio, alle 15. Abbiamo convocato anche la prima segreteria nazionale che si terrà a Riano. È un modo per dare omaggio a un grande italiano, Giacomo Matteotti, ucciso dai fascisti e ritrovato proprio a Riano nel 1924. Su questo ci tenevo a dirvi che peraltro abbiamo avviato l'iter di approvazione di un DDL sulla memoria di Matteotti.